Buongiorno a tutti, oggi vediamo cosa sono gli interpelli, come ritrovare gli interpelli e come candidarsi. Innanzitutto dobbiamo dire che gli interpelli sono degli avvisi per delle supplenze che gli istituti scolastici diffondono quando hanno la necessità di reperire personale scolastico. Possono essere supplenti per un posto comune, supplenti per posto di sostegno oppure personale ATA, dunque assistenti tecnici, assistenti amministrativi o collaboratori scolastici. Quando si crea questa necessità? La necessità si crea quando vengono esaurite le graduature provinciali per le supplenze, le comunemente chiamate GPS, quando si esauriscono altresì le graduature d'istituto e anche quando si esauriscono le graduature degli istituti viciniori. Chi dirama questo interpello? Sono gli istituti scolastici che una volta verificata la necessità di ricoprire un posto inviano l'interpello all'USP, quindi agli uffici scolastici provinciali o all'ambito territoriale scolastico che invierà ulteriormente agli uffici scolastici regionali in modo che vengano diramati all'intero territorio nazionale, perché infatti gli interpelli non sono regionali ma sono nazionali, dunque tutti quanti all'interno del territorio nazionale possono candidarsi per questi interpelli. Chi può candidarsi però? Si possono candidare i candidati abilitati, dunque coloro che risultano abilitati sullo specifico posto comune, quindi sulla classe di concorso, oppure su un posto di sostegno, quindi hanno la specializzazione per il sostegno, candidati che sono in possesso del titolo d'accesso alla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, oppure, visto il carattere d'urgenza che hanno questi interpelli, anche i candidati in possesso di titoli affini, dunque una laurea affine alla classe di concorso che necessita di ricoprire la supplenza. Andiamo ora a vedere come poter ricercare gli interpelli presenti. Allora, andiamo su un motore di ricerca, digitiamo il nome dell'ufficio scolastico regionale di nostro interesse, facciamo un esempio con l'ufficio scolastico regionale della Liguria, nella loro home page appaiono diversi tasti cliccabili, tra cui quello degli interpelli. Noi andiamo a cliccare sugli interpelli e ci appaiono le quattro province disponibili, quindi Genova, Savona, La Spezia e Imperia. Clicchiamo ad esempio su quello di La Spezia, una volta che clicchiamo ci aprirà la pagina dell'ambito territoriale della Spezia o ufficio scolastico provinciale con tutti gli interpelli fino adesso banditi. Sono diversi, come vedete, in questo caso l'ufficio scolastico Spezzino li suddivide per classe di concorso, per istituto, il giorno della presa di servizio e la scadenza. Prendiamone uno qualsiasi e vediamo che ci rimanda alla pagina dell'albo pretorio online dell'istituto che ha bandito l'interpello. Cerchiamo un nostro interpello, ad esempio questo qui, interpello classe di concorso a 042, 18 ore sino al 31 agosto 2025. Lo apriamo, ci appariranno diversi allegati, tra cui l'interpello stesso. Leggiamo cosa ci chiede, quindi per esaurimento delle graduatorie, si ricerca un insegnante di scienze e tecnologie meccaniche, classe di concorso a 042, per un totale di 18 ore, dal lunedì al venerdì, con scadenza sino al 31 agosto 2025. C'è la data di scadenza e i requisiti che devono possedere gli aspiranti a questa supplenza. In prima istanza il possesso dell'abilitazione per quella classe di concorso, oppure i titoli di studio necessari per l'iscrizione alla seconda fascia delle graduatorie provinciali, quindi banalmente il titolo d'accesso. Nel caso non servessero questi due requisiti, chiedono il possesso di titoli di studio affini, quindi una laurea che sia affine alla classe di concorso richiesta. Nel caso ci sia parità in queste priorità, andranno a essere considerati altri criteri, ad esempio aver già prestato il servizio di insegnamento per la medesima tipologia di posto, quindi per posto comune a 042, aver già prestato il servizio di insegnamento in altre tipologie di posto, che può essere sempre posto comune, un'altra classe di concorso oppure un posto di sostegno, e in ultimo il voto del titolo di studio. In questo caso, questo interpello ci richiede di compilare un modulo, quindi noi compiliamo il modulo che ci viene richiesto, che è questo qui, quindi un modulo molto semplice, con i nostri dati anagrafici e i nostri dati di recapito, di essere interessato al conferimento di una presegnamento di, scriviamo la classe di concorso e la disciplina, il numero di protocolli di interpello, poi compiliamo con quello che ci viene chiesto, lo firmiamo e lo inviamo alla scuola. Chiede che tutte le comunicazioni inerenti al presente del procedimento sono anorese all'indirizzo email e dobbiamo inserire il nostro indirizzo email in modo tale che noi possiamo ottenere delle informazioni in merito a questo interpello e a come va finito. proviamo a vedere un'altra regione, per esempio l'USR Lombardia. Ricordiamo che gli interpelli sono per lo più per le discipline STEM, quindi molti in A027, A040, A041, A042 o comunque per le classi di concorso della scuola di infanzia e primaria, soprattutto per il sostegno. L'USR Lombardia, anche loro hanno predisposto un tasto cliccabile con il riepilogo delle province, ne prendiamo una a caso, prendiamo Brescia e vediamo che Brescia ha inserito tutti i vari interpelli in ordine cronologico dal più recente al più vecchio. clicchiamo su questo interpello qui, si dice già che è dell'istituto comprensivo di Gavardo per un posto di sostegno nella scuola primaria di 17 ore. Clicchiamo sul link esterno e vediamo che ci apre questa piattaforma, è una piattaforma del gruppo Spaggiari. Noi andiamo a selezionare l'interpello di nostro interesse cliccando il tasto Iscriviti. In questo caso la piattaforma ci dirà e ci chiederà di compilare con i vari dati anagrafici e dati di recapito. Dobbiamo mettere sempre le spunte del caso, dobbiamo inserire poi un documento di identità, quindi la scannerizzazione ad esempio della nostra carta d'identità in corso di validità e poi il nostro curriculum in vite dal quale si può evincere quali sono i nostri titoli di istruzione, quali sono i nostri titoli di servizio, quindi titoli professionali. Proviamo con un'altra provincia, ad esempio con l'Ecco, vediamo quali interpelli sono disponibili e vediamo che anche l'Ecco pone gli interpelli dal più recente al più vecchio. Clicchiamo sul primo e vediamo che ci rimanda sempre a un link esterno, questa volta a una nuova piattaforma, la piattaforma nuvola. Se vedete abbiamo gli interpelli aperti, dunque l'interpello che la scuola ha emanato e poi la candidatura libera. Noi andiamo a vedere questo interpello qua che è per una supplenza sino al 30 giugno di 24 ore per il posto di sostegno in una scuola primaria. Noi clicchiamo su invia la tua candidatura e come abbiamo già visto dobbiamo compilare la domanda con i nostri dati, dati anagrafici, i dati di recapito, quindi sempre l'email e sempre il cellulare. Dobbiamo inserire poi il documento di identità in corso di validità e anche il curriculum vitae. Dobbiamo poi compilare altri dettagli che però non sono obbligatori ma servono alla segreteria per scremare meglio le varie candidature come il livello di istruzione, il titolo di studio, quindi il titolo di accesso che noi utilizziamo per rispondere all'interpello, il punteggio del titolo, quindi se in sessantesimi, se in centesimo, in centodecimi, se abbiamo o meno delle certificazioni informatiche come ad esempio il CDL, l'APAS, la LIM oppure un corso per animatore digitale, se abbiamo la specializzazione sul sostegno o se siamo abilitati all'insegnamento per la classe di concorso. I crediti conseguiti all'interno del nostro percorso universitario, basterà poi cliccare su invia e risponderemo all'interpello. Se invece i vari USR, quindi gli uffici scolastici regionali, non hanno predisposto un tasto o una sezione apposita che vada a ripilogare tutti gli uffici scolastici provinciali, noi possiamo andare ricercando l'ufficio scolastico provinciale di nostro interesse. Facciamo un esempio con l'ufficio scolastico di Livorno, apriamo la loro home page e vediamo che le ultime notizie che riporta l'home page dell'ufficio scolastico provinciale di Livorno sono appunto quelle dedicate agli interpelli. Clicchiamo sugli interpelli in modo tale da vedere quali sono esattamente le notizie presenti su questo sito, vediamo che non abbiamo soltanto interpelli inerenti alla provincia di Livorno, ma anche interpelli arrivati da altre province, quindi ad esempio Vivo Valencia, la Potenza addirittura. Questo perché appunto come abbiamo già detto gli interpelli hanno carattere nazionale e la loro diramazione dovrebbe essere capillare all'interno di tutti gli uffici scolastici provinciali. Andiamo a vedere però un'altra possibilità di candidatura che ci viene fornita da questo istituto, stanno ricercando dei docenti in A027 dunque matematica e fisica per la scuola superiore, ci dice che appunto sono esaurite le GPS, le graduatorie di istituto e le graduatorie di istituto i viciniori e quindi si propone un interpello, un interpello appunto per A027, 18 ore fino ad avente diritto per posto accantonato a graduatorie di merito appunto per il concorso PNRR. In questo caso noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo inviare la nostra candidatura su carta libera all'indirizzo email che ci viene fornito dalla scuola entro una data che ci viene fornita sempre dall'interpello, inserendo come oggetto della mail, interpello classe di concorso A027 nome e cognome. È fondamentale riportare esattamente quello che l'interpello ci chiede, in modo tale che la segreteria, gli assistenti amministrativi possano scremare già dalle email le candidature che a loro interessano, perché dobbiamo immaginare che le scuole vengano talvolta anche oberate di email. Quindi per ricapitolare, noi abbiamo diversi metodi per ricercare un interpello, o attraverso l'USR che va a fornire un riepilogo delle province con gli interpelli attivi, oppure andandoli a cercare direttamente nell'ufficio scolastico provinciale di nostro interesse. Vi è anche un altro metodo, ad esempio andare direttamente nell'albo della scuola che noi desideriamo, prendiamo una scuola qualsiasi, andiamo nell'albo online e andiamo a vedere se in questi giorni hanno pubblicato degli interpelli. Eccolo qua, sono pubblicati un interpello che sicuramente poi è stato girato anche all'ufficio scolastico provinciale. Quindi, ufficio scolastico regionale e ufficio scolastico provinciale sono i due siti nei quali noi possiamo cercare gli interpelli. In ultimo, nelle singole istituti. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo leggere attentamente quello che l'interpello chiede, quali sono i requisiti e inviare la candidatura secondo le modalità dell'interpello. Quindi, attraverso la piattaforma nuvola, attraverso la piattaforma di Spaggiari o attraverso anche un'altra piattaforma che potrebbe essere quella di Argo. E in ultimo, mandare l'email, se questo è quello che ci viene richiesto, col nostro curriculum e il nostro documento scannerizzato e in corso di validità. Grazie per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Grazie.